Ciao a tutti, in questo video voglio parlare dei condizionamenti genitoriali. Cosa sono e come si manifestano i condizionamenti genitoriali? Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco ed iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora, cosa sono i condizionamenti genitoriali? Allora, i genitori ci condizionano per diversi motivi e in diversi modi. I condizionamenti genitoriali nascono da che cosa? Nascono dal fatto che, prendendo spunto, diciamo così, e partendo dal presupposto che un genitore voglia il bene del figlio, i genitori sanno, sentono di aver fallito in alcune aree della loro vita e c'è chi ritiene, il genitore, di aver fallito da un punto di vista sentimentale-affettivo, chi ritiene di aver fallito da un punto di vista lavorativo, da un punto di vista dell'autorealizzazione personale, insomma, in diverse aree della vita. Ci sarà sicuramente un qualcosa che il genitore ritiene deficitario. E allora inizia a avere paura del fatto che il figlio possa commettere i suoi stessi errori, possa commettere i suoi stessi sbagli. E allora cerca di condizionarlo. E questo è un paradosso, perché dove io non sono stato capace a fare, ti do suggerimenti a te, affinché tu possa riuscire a fare dove io non sono riuscito. Questo è, se vogliamo, un po' un paradosso, no? Perché, come dire, anziché insegnarti dove io sono stato bravo e farti vedere, diciamo così, dove ritengo di essere il migliore, tra virgolette, no, ti vado a fare le pulci proprio nelle stesse aree dove io ritengo di aver sbagliato, di non aver fatto le scelte giuste, di aver commesso degli errori. E cerco di condizionarti lì. Sono, diciamo, avuto una vita sentimentale affettiva che ritengo fallimentare. Bene, cercherò di condizionarti nelle scelte sentimentali affettive. Darti, diciamo, quella, come dire, quell'idea, darti quel, possiamo dire, quella forza. Quei suggerimenti, lì dove io non sono riuscito. E questa è la cosa, diciamo, paradossale. Eppure il genitore è poi quando, se il figlio invece vuole fare di testa sua, perché vuole acquisire la sua identità, non vuole essere condizionato dal genitore. Teniamo presente che diventiamo adulti quando facciamo le scelte libere, non condizionati da un genitore, non condizionati in nessun modo. E lì nasce lo scontro. E allora cosa succederà? Che il figlio, se si adegua alla volontà del genitore, soffrirà sempre e viverà anche un forte conflitto col genitore. Soprattutto se poi i suggerimenti del genitore si riveleranno fallimentari. Lo accuserà. E se invece il figlio metterà in atto un atto di ribellione, cioè il figlio o la figlia ovviamente, farà di testa sua, succederà anche qua una cosa particolare. Succederà che cosa? Succederà che praticamente si sentirà, diciamo, anche qua in conflitto col genitore. Il genitore metterà in atto tutta una serie di strategie conflittuali nei suoi confronti. Ma la cosa interessante qual è? La cosa interessante è che se il genitore avrà ragione e il figlio facendo di testa sua si pentirà, il genitore rimarcherà a questa situazione. Dirà, eh, te l'avevo detto io, devi fare quello che dicevo io. E quindi farà vivere forti sensi di colpa. L'unica scamotage è che il figlio, facendo di testa sua, abbia molto più successo del genitore e riesca ad avere successo. Allora, come dire, ne uscirà vittorioso. E spesso il genitore, in questi casi, ob torto collo, riconoscerà il successo del figlio. E questa è la strada che va percorsa. Per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram, Massimo Terramasco, iscriviti al canale, e iscriviti al mio nuovo canale, Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!